e finalmente la patch 11.30 ragazzi è arrivata su fortnite tante tantissime le novità che ha portato ovviamente e finalmente tutte a tema natalizio un sacco di roba nuovissima a partire dalla mappa un sacco di parti di mappa sono state innevate a partire in alto da destra da scogliere scoscese passando a corso commercio lago languido brughier scordo dicendo a scogliere un sacco di cose e poi tra le altre cose come avete appena visto è tornato il mini pucazzino di neve ragazzi tanta tanta roba tornano questi shield tra virgolette a tema natalizio che come tutti sappiamo lanciati creano pupazzi di neve ciccioni che oltre a depistare allegramente gli avversari permettono anche di infratazzarsi dentro prepotentemente il tipo di prima avuto un culo incredibile a pescare subito il pucazzino giusto ma ragazzi oggi voglio provare a infrattarmi violentemente nei pucazzi di neve per vedere se per caso riesco a portarmi a casa anche perché siamo rimasti in quattro ragazzi quindi pucazzo number one pucazzo number two e pucazzo number three distruggerli e una volta distrutti rilasciano una palla di neve gigante che se la lanciate contro gli avversari gli congela i piedi e gli fa un danno allucinante io ragazzi voglio sperimentare insieme a voi questa tecnica non è assolutamente facile e non è come la leggendaria tecnica egitto che è quasi in sgammabile qua si vedono tre quattro pucazzini in giro tendono a sparargli però si è rimasti in quattro non usatene mai cinque perché cinque sgamo che c'è dentro uno nei cinque pupazzi tre magari può sembrare c'è gente là sopra c'è gente là sopra guardate si stanno scannellando in due tra l'altro abbiamo visto anche che ci sono tantissime nuove armi inserite nella patch 11.30 ha rimesso il lanciapalle di neve strabello aveva messo il caccia ma mi sa che l'han tolto tipo subito perché non l'ho più tu vai 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 corri 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 è un po' sgamo è un po' sgamo è un po' sgamo uno due sgolfo potrei sono in tre si è rimasti in tre e siamo tre pucazzini ora mi sparacchiano male ragazzi se lo vinco così sgalf mi giro veloce dai è meno sgamo su quattro quando esci da uno ne rimane giù uno un po' sgamino quattro pocazzi di neve però dove all'oxiuda secondo me dovrei dargli le spalle e così è sgamo così sono nella stessa forma degli altri potrebbe essere meno sgamo ragazzi siamo ancora in tre non lo so intanto vi ricordo ragazzi di scrivermi qua sotto nei commenti come vi è sembrata questa patch 11.30 vi è piaciuta non vi è piaciuta ci sta non ci sta a me personalmente è piaciuta tanto arrivano anche tutte le sfide nuove hanno messo dentro le nuove skin alcune parti da location ci stanno sparacchiando alle mie spalle devo girarmi devo guardare devo guardare pericoloso è è molto pericolo sono un pochettino più in fronte a sao almeno non so proprio quello da solo isolato no potrei essere qua hanno appena aperto il drop dietro di me hanno appena aperto il drop ora spareranno i pupazzi la vedo brutta oh oh where's golf non fare il pro player oh 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 dai non mi rompere le palle vabbè è andato comunque bene ragazzi 1v1 chi sono oh 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 a lasciostare il pupazzo aiuto Ce l'ho con me, ce l'ho con me Dai perché ce l'hai con me, ma io mi sto solo divertendo quei pupazzi Ci sono pupazzi ovunque, qual'è il pupazzo come giusto come finto? Non si sa Con calma, con calma, con calma Trovo il pupazzo giusto, dove è andato? Dai dove è andato? E' là? Modifica Dai non ti uccido Nooo, peccato, peccato, vabbè ragazzi è stato comunque molto molto divertente, uguale provarci fino alla fine, io spero che vi siate un po' divertiti, pensateci se avete delle tecniche che potete utilizzare con questi pupazzoni di neve perché sono veramente tanta tanta roba, io vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Vi mando un abbraccione, noi ci vediamo in live su Twitch, ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.